Io ti dico che Rocco ha dei problemi, perché aveva delle riviste porno sotto il letto, sì, proprio per quello. Ma come significa che ha cominciato a farsi le sedi? Cosa stai ascoltando? Jody McGee. E dai, Ro, non è morto nessuno. Il mio pisello, sì. Jody McGee, l'erede di Freddie Mercury. Sì, vabbè. L'hanno beccato che si baciava col suo batterista. Infatti i paparazzi hanno rotto, ma che gliene frega se è gay. La ragazza nel bagno con Andrea. Ma chi è? La conosco. Sono io, mamma. Ma tu non sei mica. Dobbiamo parlare. No, anzi, devi parlare con papà. Questa è una fase di transizione. È un momento. Non è un momento, cazzo! Tu vuoi soltanto punirmi perché non vuoi che io sia così. Conosco il nome del Magalina Attur Pagnotta. Dov'è? O la luna. Mi vendo gli ovuli. Li paccio, tipo le guovo. Li viaggio online e li vendo. Sta cosa è geniale, oh. Ma carino de merda! A me mi pareva troppo poco, 150 euro per tre biglietti, eh. Ma Mauri, il problema non sono 150 euro per tre biglietti, ma la scritta tribuna con due b. O la luna 따� Suppose Sci- favorita per tre biglietti, ma la scrittura iguana.